Amici di Movita Television, questa sera le nostre telecamere tornano con grande piacere qui ad Ercolano precisamente in via Viulo numero 2 in una location stupenda che è lo Susha Club Questa sera ci divertiamo e balliamo tutti insieme sulle note della band Maybe Funk Occhio alle immagini Buonasera, innanzitutto auguri perché tra poco ti sposi, giusto? Grazie, grazie Quando, quando l'evento? Venerdì 9 Ah, quindi manca poco, come mai hai scelto di festeggiare la Dio Nubilato proprio qui? Ovviamente l'hanno organizzato tutte le mie amiche e le mie sorelle perché è un locale dove si sta bene, c'è bella gente e anche musica Amici di Movita Television, noi siamo sempre qui allo Susha Club, intervisto queste belle persone, buonasera Buonasera, io sono Enzo e siamo qui con un gruppo di amici Sì, tanti Siamo abbastanza, sì, abbiamo deciso di fare questo gruppo e venire a mangiare in questo locale che è particolare La prima volta che venite qui o siete clienti abituali? Per me è la prima volta, non so, gli altri penso sono già venuti Vi state trovando bene? Abbastanza, simpatica Avete già mangiato? No, ancora no, stiamo degustando Eccoli qui due belle ragazze che si stanno facendo il selfie, buonasera Buonasera Vi state divertendo? Sì, certo Prima volta qui allo Susha o venite spesso? Siamo venute qualche altra volta, sì, in estate Vi trovate bene? Abbastanza Avete già mangiato, vedo Assaggiato Assaggiato, quindi ancora dovete mangiare Complimenti, dove lo mettete? Mangiamo in teta E allora va bene, allora mangiamo quanto vogliamo Allora ragazzi invitiamo tutti a venire qua allo Susha Club Si sta bene, venite Venite che si mangia bene, si sta bene Venite tutti qua, vi aspettiamo in tanti Cari amici di Movita Television Mi trovo sempre qui all'interno di queste splendide sale dello Susha Club Qui dove potete festeggiare i vostri grandi eventi e non solo Sono qui per ricordarvi i grandi appuntamenti in vista del nuovo anno Il giorno 16 dicembre Qui ci sarà una grande cena contombolata E a seguire il live show della Core Band Il giorno 23 dicembre festeggeremo proprio qui la festa dell'albero Con cena più musica anni 70 e 80 E alla fine 31 dicembre Grande cenone di Capodanno con dopo serata Divertimento assicurato qui allo Susha Club Per info e prenotazioni Andate sul sito www.sushaclub.com Oppure andate sulla pagina Facebook O chiamate il numero in sovraimpressione Vi aspettiamo tutti qui allo Susha Club In via Viulo numero 2 Ercolano Buonasera, benvenuti qui allo Susha Club Buonasera Come sta andando la serata? Benissimo, c'è una bella musica, bravissima cantante Si state divertendo? Sì, sì, abbastanza Avete già mangiato o state aspettando? Aspettiamo Beh, ma qui mangiare arriva subito Quindi mangerete presto Allora, prima volta che venite qui o venite spesso? Seconda, seconda volta Susha Club Grazie a tutti Grazie a tutti Ed eccomi qui con la cantante di Maybe Funk, buonasera Buonasera a tutti Prima volta qui allo Shusha Club o venite? Siete già venuti? Siamo clienti di solito però, questa è la prima volta che siamo qui Chi più di voi può dirci insomma come si sta qui? Si sta bene, si sta bene, bella gente, l'ambiente è carinissimo, accogliente Poi ci siamo noi stasera quindi Infatti parlaci un po' cosa ci stai facendo ascoltare e cosa ci farei ascoltare questa sera? Noi facciamo un po' di pezzi funky, infatti maybe funk però forse funky Perché insomma non facciamo solamente pezzi funky Ma diciamo che è un po' di evergreen Che alla fine fanno sempre piacere insomma Fa sempre piacere ascoltare Devo dire oggi è stato molte persone che stanno apprezzando la tua voce e la tua musica Quindi complimenti, ci stiamo davvero divertendo E speriamo anche di scatenarci un poco anche più tardi Dove possiamo sentirvi e incontrarvi le prossime mesi? Noi abbiamo una pagina Facebook, Maybe Funk Dove mettete mi piace Maybe Funk, mi raccomando E anche un sito internet, sì Che trovate stesso sulla pagina E lì diciamo che ogni volta scriviamo un po' tutti i nostri appuntamenti Gli eventi dove ci potete trovare di solito Stanno così e morando meglio Sono un vulgare soli che nella vita sorrirà E mi darei poter se non ne vor Non è un gaicio, non soccano, scelto, non ca' bene Una prezata, non so E quasi mi faccio tutto quello che mi va E qui ci stanno E qui ci stanno E qui ci stanno Amici di Movita Television è qui dallo Susha Club è tutto, vi invitiamo in tanti a venire qui per le vostre grandi feste ma non solo, vi ricordo i prossimi grandi appuntamenti, il giorno 16 dicembre cena spettacolo con tombolata e a seguire il live show della core band il giorno 23 dicembre festa dell'albero con disco music anni 70-80 e infine 31 dicembre venite in tanti per il grande cenone di Capodanno con il dopo serata tanto divertimento assicurato, vi aspettiamo quindi qui allo Susha Club in via viulo numero 2 per qualsiasi informazione chiamate il numero in sovrimpressione, andate sulla pagina Facebook o sul sito www.sushaclub.com seguiteci sempre per i nostri grandi eventi su Movita Television canale 636, ciao!